ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente su rise of industry dopo mesi dopo anni insomma il gioco è completamente in italiano ma oggi non siamo qui a giocare rise of industry ma siamo qua a provare rise of industry 2130 una sorta di costruzione stile blade runner quindi la stessa diciamo meccanica grandi linee di rise of industry ma in un ambiente estremamente futuristico c'è il tutorial c'è la possibilità di iniziare la carriera e poi la possibilità di scenari quindi crearci la nostra partita noi iniziamo a provare la carriera dove iniziamo appunto nomi di città 2130 insomma quindi non più nomi da 1930 ma ben 200 anni dopo basta basta tutto qua non facciamo altro abbiamo anche un assistente in gioco il terreno lasciamo tutto così invariato e cominciamo poi non so se vi ricordate il gioco potete andare a vedere il video che ho fatto tra l'altro ha fatto anche una bella serie gameplay channel quindi se volete dare un'occhiata anche alla sua serie lui lo ha diciamo snocciolato un pochino meglio di me sicuramente l'ambientazione sicuramente cambia tanto io gradisco di più quella del gioco base ma perché mi piace il verde non questo mondo diciamo distopico diciamo comunque queste sono questa la città abbiamo la città di prime la città di motif enorme la mappa l'area 512 fa un po anche half live 2 e serenity e victory insomma città ce ne sono tante e dobbiamo mettere la sede centrale seguiamo un po il tutorial base però usa tab per controllare la mappa le risorse sulla mappa ok abbiamo sì vedete mentre prima avevamo magari l'acqua il petrolio così adesso c'è titanio loro il torio altro la torio titanio e le risorse sono queste sono curioso di andare a vedere insieme a voi anche la diciamo il l'albero delle tecnologie beh intanto possiamo dare un'occhiata a motif che ha merci assortite e negozi di fabbricazione ed è una città dall'economia stagnante quindi vediamo i due negozi diamoci un'occhiata praticamente richiedono beni celle di energia nucleare rocchetto di fibre di carbonio nano chip microchip chiedono cellule di memorie mentre invece le merci assortite quindi non un negozio di fabbricazione richiedono il torio il filo d'oro e puntone in acciaio insomma richiedono praticamente delle merci più o meno grezze e quindi andiamo a provare io la diciamo la sede centrale io la metto qui mettiamo qui no non me la fai mettere qui una regione con una casella si ricostruisce una regione con delle rovine cioè che cacchio vuol dire con delle rovine ok qua si me lo lascia fare qua meno non me lo lascia fare perché non me lo lascia fare qui non è una regione con delle rovine quasi invece quindi possiamo metterla qui chissà perché vabbè la mettiamo qua diamo un'occhiata serenity che ha ok a tutt'altro perché a merce assortite ci chiedono le stesse cose quindi dai contenitori di titanio l'orba le varie a il centro di nutrizione quindi ci fa fare tessuto di proteina tessuto energizzato barretta nutriente insomma mamma mia che futuro brutto che ci aspetta se va così vabbè comunque l'economia è stagnante anche qui posiziona un predatore delle rovine posiziona tre raccoglitrici per produttore delle rovine che cacchio sono mamma mia è completamente diverso beh questo l'avevo l'avevo visto beh diamo un'occhiata allora le reti ci sono le stesse strade le rotaie ponti e gallerie sono sempre quelle la logistica abbiamo magazzini magazzino a riflesso abbiamo gli estrattori predatore delle rovine utilizzare le raccoglitrici per produttore di acciaio nelle rovine in giro per la mappa eh ma questa è un'area di rovine quindi vabbè posizioniamo un predatore delle rovine non ci sono più i dollari ci sono i crediti ormai si è estremamente futuristico lo posizioniamo qui ma boh predatore delle rovine mettiamo non ho idea di dove siano le rovine comunque facciamo così lo mettiamo qui così che gli possiamo aggiungere la strada dopo anzi lo facciamo immediatamente andiamo a mettere una strada urbana scusate strada no mettimi la strada urbana vabbè farmi fammi la strada ma ok posiziona tre raccogliettrici per il predatore delle rovine ok allora aggiungere raccoglitrice deve essere costituita accanto alle caselle sì ma il bello è che non abbiamo le rovine che cacchio sono le rovine mannaggia te allora le rovine sono queste porca bestia mamma mia no 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 ho fatto una chiap let posso distruggere cortesemente potessi nessuno raccoglitrice ho capito non abbiamo non abbiamo le rovine quindi me lo fai distruggere vabbè prendiamo il bulldozer demolisci e niente facciamo questa cosa qui vicino alle rovine allora estrattori ecco qua questa è una strada ok sì fantastico facciamo niente qui facciamo questo facciamo qui con una strada quindi praticamente è successo qualcosa nel mondo e questo qualcosa ha portato alla distruzione di tutte noi usiamo le rovine come risorsa di commercio molto triste qualcosa comunque adesso qua ci fa fare cicci riposizionare 3 1 facciamo 2 e facciamo anche la terza qui perfetto abbiamo posizionato 3 raccoglitrici abbiamo periodo di raccolta 15 giorni collega le raccoglitrici al predatore con strade aspetta la produzione di acciaio ok allora dobbiamo comunicare con le strade poi andiamo a vedere anche tutto quello che è il il l'albero delle tecnologie scusate che qua c'è una cosa in questo gioco che non è mai chiara c'è quella che bisogna far sovrapporre le strade facciamo un doppio incrocio così almeno ok poi faccio comunicare anche questa con questa e questa con questa ok abbiamo fatto comunicare tutto credo collegare il collegatore operatore e aspetta la produzione dell'acciaio va bene aspettiamo la produzione dell'acciaio gioca ok iniziano diamo un'occhiata qua il fumo ok ci sono queste queste gru che questi robottoni che stanno raccogliendo l'acciaio e nel mentre lo fanno intanto qua vedete che città insomma graficamente molto lo definirei grazioso c'è il depuratore d'aria beh adesso mentre aspettiamo io farei un esame di tutto quello che si può costruire estrattori di silice mini addittorio titanio polimere fattorie di coltura di usare i campi di preparature alghe di cellulosa stabilimento di vasche consente di utilizzare i campi per fare tessuto fibroso proprio un gioco totalmente stravolto da un dlc e questo secondo me è positivo perché sono questi dlc che servono e non aggiungere case aggiungere cosmetico edifici nuovi a pagamento cioè mi stravolge il gioco bene costa 9 99 potrebbe anche valire se siete appassionati di cyberpunk allora qua abbiamo le fabbriche stabilimento medico componenti avanzati componenti di base stabilimenti materiali fabbrica di robot ok qua puoi realizzare varie parti per realizzare prodotti dell'industria pesante come attuatori artici benessi c'è vari robot perfetto perché poi voi non so se vi ricordate in rise of industry avevate la possibilità di vedere la produzione e destinare i o stocca fare lo stoccaggio o scegliere la destinazione dei vari componenti che producete e nelle varie fabbriche o fattorie nel momento in cui voi avete un'entrata di un materiale e di un altro materiale e qui due combinati insieme danno un risultato lo fate produrre e al tempo stesso determinate dove mandare il prodotto finito esempio nel gioco base se mandavate che so acqua e non so uova e acqua esempio le portavate faccio un esempio al mulino voi producete il pane il pane o lo tenete lì o lo mandate nei vari negozi che lo richiedono più o meno vicino dipende da che disponibilità da che budget avete per il il trasporto abbiamo completato intanto vedete che stanno andando anche i camion vendi prodotti del valore crediti ok apri il negozio vicino a serie centrale per scoprire quali prodotti servono e non ho idea di come non me l'ha già dato vendi prodotti quindi direi che qua abbiamo dovremo avere della merce stoccata infatti abbiamo dell'acciaio e l'acciaio gli scegliamo la destinazione la destinazione dovrebbe essere a serenity vediamo lo vendiamo allo stato al commerciale merce assortite ma dove cacchio sono vediamo un po merce assortite lo vendiamo la dove dovevamo volevamo iniziare prima lo vendiamo qui all'altro lo vendiamo a non ce lo vende a serenity va bene se invece facciamo stato ce lo vende all'esterno credo si si non ce lo porto fuori non ce lo lascia vendere lì va bene comunque lo vendiamo niente vendiamo allo stato ma vedete che qua adesso si è aggiunto il la vendita allo stato quindi c'è uno stato superiore in alto va bene continuiamo con le fabbriche che abbiamo visto poi sono tutte cose da sbloccare poi andremo a vedere anche l'albero delle abilità l'inquinamento depuratore d'aria molto importante al giorno d'oggi al 2130 ovviamente strutture prototipi mega fabbrica dei replicatori praticamente credo sia un po come il prototipo dell'auto che è un po l'end game del gioco base quindi qua si può creare un replicatore la terraformazione c'è sempre raddoppio bulldozer insomma questi sono i menu base andiamo a vedere anche etichette livelli della mappa no lo stato eccolo qua lo stato scegli destinazione l'oro mercato globale con tutti i prezzi delle varie risorse la panoramica del negozio quindi tutti i negozi che abbiamo in giro per le varie città non nostre ovviamente ma sono tutte le attività e poi abbiamo questo cos'è replicatore ok si come avevamo visto libro di ricette quindi tutto quello che noi sappiamo fare al momento tipo ad esempio è i polimeri non sappiamo ancora come farlo non sappiamo niente sappiamo che per fare l'infusore di particelle ci servono il laser subatomico l'estensione braccio usiliario che ci crea questo forse serve ancora qualcosa insomma infatti adesso andiamo a vedere qua l'albero tecnologico e che è decisamente diverso rispetto all'altro perché l'altro secondo me è un po' più interessante questo è molto molto moderno in pratica possiamo andare a investire del denaro come si faceva nell'uno e infatti qua dobbiamo 120 giorni infatti medicina possiamo andare a sbloccare la cultura iperbatterica microbica e la virale l'industria alimentare quindi la possibilità di andare a sbloccare le alghe primordiali le alghe di cellulosa investendo del denaro più passano i giorni più vanno a sbloccarsi e una volta sbloccate avremo modo di produrle all'interno delle industrie si sbloccheranno anche le industrie presumo diamo un'occhiata infatti qua c'è componenti di base abbiamo la possibilità poi adesso di raccogliere il titanio tutti i vari materiali base ma non possiamo ancora raffinarli la robotica ci consente di fare i puntoni in acciaio il filo d'oro anche qua il filo d'oro era richiesto dall'industria abbiamo il telaio delle robot pesante fino ad arrivare alla costruzione delle robot pesante e le robot da trasporto pesante abbiamo polimeri materiali abbiamo componenti avanzati quali l'interfaccia neurale il processo tetra grezzo l'infusore particelle verteron il replicatore che è quello penso come Star Trek insomma campi e raccoglitrici quindi stoccaggio fattoria stoccaggio estrattore e logistica e amministrazione che è qua molto importante il depuratore d'aria possiamo andare a sbloccarlo ci costa 200 crediti dove possiamo andare a investire anche noi stessi nei depuratori d'aria vado sbloccarlo stoccaggio fabbrica strade urbane strade senso unico distribuzione base 3 slot di destinazione direi che c'è tantissima carne al fuoco qui piattaforma navette addirittura stazione ferroviaria le navette e le navette volanti di cui possiamo anche aumentarne la capacità la capienza insomma e anche la velocità interessante molto interessante per un appassionato di cyberpunk questo DLC 9.99 è assolutamente regalato e mi piacerà sicuramente io non sono un grande stimatore ma perché vorrei prima di tutto godermi il gioco base questo senz'altro ma non è che non mi piace mi mette ansia tutta questa cosa ultra futuristica probabilmente lo andrò a giocare verso mazzo aprile quando uscirà cyberpunk 2077 quindi me lo godrò bene al momento devo dire che è ben fatto c'è un sacco di roba ed è difficile veramente entrare in questa meccanica panoramica di produzione e non abbiamo niente al momento cioè facciamo l'acciaio al momento quindi andiamo a vendere apri 4 pannelli differenti degli insediamenti vicini allora andiamo a aprire dei pannelli ovviamente qua è tutto guidato quindi apri un pannello apri un altro pannello ok abbiamo completato abbiamo visto inizia a ricercare la stazione maglev inizia a ricercare la stazione maglev e drogacchio è la stazione maglev ma sappiamo cosa dobbiamo costruire usiamo i blocchi gratuiti per sbloccare i prodotti i nostri sblocchi gratuiti per sbloccare i prodotti ok inizia a sbloccare la stazione maglev allora dov'è la stazione maglev no vabbè la cosa di ricerca so dov'è vediamo dov'è campi raccoli 3G no cacchio è stazione maglev microchip vediamo industria pesante no ma non depuratore d'aria l'ho cercato magazzino no stazione ferroviaria no non ho proprio la minima sbloccare il depuratore d'aria l'ho fatto sbloccare i prodotti della riga 2 dell'albero tecnologico inizia a ricercare la stazione di maglev e non so che cacchio sia la stazione di maglev però ho già fatto alcune cose che andavano fatte allora aspetta scrivo qui giustamente mag maglev e ovviamente non trova niente stazione boh io cerco questa poi si era quella infatti apri la mappa dell'inquinamento posizione del depuratore d'aria dove vuoi per costruire una fattoria allora apriamo la mappa dell'inquinamento cioè praticamente in alto qua ecco qua vediamo subito la mappa dell'inquinamento mamma mia mappa termica inquinamento perfetto posizione del depuratore d'aria dove vuoi per costruire una fattoria la facciamo qua a sud quindi fattorie vediamo un attimo dov'è depuratore d'aria inguinamento depuratore d'aria la piazziamo qui a vuoto la collego con le strade perfetto voglio vedere l'inquinamento ma al momento non c'è ancora tempo di pulizia ok stipendio lavoratori stoccaggio ok abbiamo messo quello vendi prodotti in angrezia ok niente ancora non si è visto assolutamente nulla cioè almeno qua dovrebbe col tempo renderci l'aria respirabile almeno succede così in città mappa del traffico non c'è traffico visualizza griglia che è molto comodo ma mappa dell'inquinamento niente utilizzare prodotti appena sbloccati soddisfa la domanda dell'insediamento vendi prodotti non grezzi quindi niente insomma qua depura l'aria semplicemente quindi depuriamo l'aria e ovviamente dovremmo andare a fare prodotti non grezzi quindi non lo so miniera no miniera no fattorie e fabbriche componenti base utilizzare il titanio quindi possiamo andare a fare la nuova bloccata ancora quindi fattorie fattorie di cultura la facciamo qui deve essere costruito su celle di spiaggia perché 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 usa l'acqua eh sì alghe ok stabilimento vasche no inquinamento no eh niente spiaggia non ne abbiamo cioè ce n'è di qua ma è totalmente fuori perché io credo che sia poi come l'uno che non si possa costruire dove si vuole credo eh niente dobbiamo adesso l'obiettivo è quello di vendere della roba non grezza quindi bisogna lavorare eh sul fatto di raffinare vediamo se me la fa fare qui sì ok usiamo l'acqua qua quindi andiamo a collegare la strada perfetto perfetto quindi questa fattoria vedete ha bisogno eh della produzione di alghe sopra non c'è nulla nessun campo e infatti dobbiamo fare i campi quindi direi che clicchiamo qui e attiviamo il campo campo che vanno va messo in acqua perfetto adesso inizierà la produzione di alghe vedete vedete qua sopra probabilmente c'è un modo anche di produrre l'alga in un altro modo comunque scegli la destinazione destinazione commerciale o allo stato 67 tasselle vendiamo l'alga raffinata quindi loro qua produrranno alghe e la venderanno allo stato vediamo intanto se funziona mando 10 pera di di velocità ma in realtà sembrerebbe esserci qualche problemino no qua funziona quindi sembrerebbe funzionare e insomma no non ce la vende probabilmente stiamo facendo un po' di casino anche perché l'inquinamento qua il depuratore d'aria non funziona efficienza 100% ma non sta depurando una ceppa perché qua è sempre è sempre sporca l'aria boh ci metterà del tempo probabilmente campo di alghe non siamo riusciti ancora a venderle vediamo se abbiamo stoccaggio no eh infatti non ce la fa fare vendiamolo allo stato vendiamo vendiamo le alghe allo stato e vediamo se riusciamo a ottenere avviso produzione inquinamento eccessivo inquinamento eccessivo è vero è vero è vero c'è un problema perché c'è inquinamento e quello me ne ho accorto anch'io perché l'ho messa là e non l'ho messa qui quindi andiamo a metterne un'altra la mettiamo qui e la facciamo comunicare con la strada sterrata ok direi che torniamo a velocità 10 e vediamo se funziona inquinamento eccessivo eh direi che questo depuratore d'aria qui possiamo anche distruggerlo perché tanto non ci serve recuperiamo un po' di soldi perfetto allora vediamo eh non lo so si è ancora inquinatissimo qui poi ovviamente io ho fatto il video per mostrarvi quello che serve sabbia qua eh secondo me si secondo me non funziona proprio così servirà qualcosa per depurare l'acqua come l'acqua sembra esserci sabbia quindi non lo so non lo so non saprei comunque sicuramente qua non stanno producendo nulla ovviamente no stavo dicendo non è un video per insegnarvi a giocare ma un video per farvi vedere un pochino tutti quelli che sono i menu del gioco quelle che sono le nuove aggiunte o più semplicemente tutto il totale stravolgimento di questo titolo rise of industry è un titolo veramente eccezionale veramente ben fatto anche graficamente molto bello da vedere molto particolare rise of industry di 2130 stravolge come abbiamo visto completamente il gioco e occorre imparare nuovamente a giocare quindi se siete appassionati ormai io immagino cioè io vado a momenti a momenti adoro il cyberpunk a volte invece preferisco il verde insomma quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo primo sguardo questo DLC costa 9,99 euro magari nei link qua sotto lo trovate anche a meno anche se credo che se già adorate rise of industry e adorate anche il cyberpunk questo gioco a 9,99 euro è assolutamente un affare per voi fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao